Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati dal vostro amico l'IP2L200, siamo nella merda perché sento già l'Alien Allora, siamo ritornati dopo un cifro di tempo su Alien Isolation E me la sto già facendo sotto Ok Dovremmo fare una tecnica che ti propongo Ti ricordi che abbiamo fatto a playlist interconnessi, no? Allora, tu usi l'audio e io usi la tastiera Così, così, se mi fai qualche scherzone moriamo in due No, sento l'Alien Non parlare che ti sente No, allora, ragazzi, voi dovete capire che questo episodio qua in realtà l'avevo già registrato, no? Non eravamo arrivati fino in fondo Cioè, ci mancava poco per arrivare alla fine Vabbè Modalità stelto Eravamo arrivati verso la fine, no? Solo che non si sentiva l'audio, andava tutto a scatti E praticamente c'è stata la scena epica che Cosa che mi ha detto No, non c'è l'Alien, non c'è No, non c'è l'Alien BAM AAAAAAA Forse se n'è andato Morto Ah, eccolo Vabbè Tutto bene Yeah, bro Non mi ha fatto male Non mi ha fatto male No C'è solo TAM Morto è veloce E almeno è grazievole Eh Barco ha detto Non c'è niente Per guardare la mappa Bisogna andare al punto esclamativo? Sì, qua No, qua Qua, qua, qua Siamo vicini Non vedo Non ho l'Oculus Rift Sono certi, possono farlo Non ti può acchinare qua È vicino, è vicino Guardalo, guardalo, guardalo Non hai fatto niente tempo neanche a tirare giù la zip Che era già fuori Oddio, cosa stai facendo? Non lo so Ma tipo lì Stai cercando un posto per scorreggiare Ma tipo lì che sta vagando, tipo Sce lo becco Anzi, sce la becco Quello pezzo di mare Sì Guardo, io che sono più di qua C'è niente? Non vedo niente No, non va Allora Ti propongo la richiesta Ma che tu c'hai l'audio fino Sì Esatto Proprio Va, vai Vado, vado Vada, vada Vada Si avvicini però È dietro Tanto È di codi Non lo senti No, aspetta Passi Non li senti Ok, ora si È ancora di qua Ok, di qua Eh! Oh ma sta ca... Ma perché io lo sento di qua mentre è lì davanti Eccolo, eccolo Eccolo, eccolo Salve Fare il casotto Eccolo Ha cercato una sala nascosta per scorreggiare Scorreggiato? Eh Prrrr È un cazzato Ma che ti ascomporto? No perché è bu... Fa... Oh salve Ah possiamo anche uscire da lì? Eh si Ma... Non lo sento più Si fai ora di qua, di qua Dietro? Si, dietro a sinistra Non lo sento più Vai Touch È dietro AAAH Infatti Era dietro Ah la mia suona era di qua E te lo dico Si, era la sua Sono solo confusi Cosi confusi e colpirsi da soli No fino a non funziona bene questa tattica No, non funziona Non c'è abbastanza reattività No non è che non c'è abbastanza reattività Che l'arne è troppo sitä Mema e all'a dietro Tatatatatata Tatatat Ma la mia domanda Sono giusto? No Ma non avevo già sbloccato la corrente Perché non vorrei che dovesse uscire E дальше No, l'ho visto Motherfuck Eh no, sento i suoi passi delicati da un carri armato Da un carri armato di distanza Eccolo, guardalo lì Motherfuck Però la prima età dobbiamo fare un Un briefing della situazione Allora, noi siamo qua L'obiettivo è qua e l'alien è qua No, noi non dobbiamo arrivare qua No, noi non dobbiamo arrivare qua No, no, dobbiamo arrivare qua Anzi, il punto di interesse è questo È questo il punto di interesse No, ma è questo Ho capito, ma qua c'è il dottore che ci ha dato una missione No, noi dobbiamo andare su questa cosa qua che zira No, ma c'è anche qua il punto di interesse Nella stanza veri qui Ho capito, ma il punto di interesse è il salvataggio No, il salvataggio è questo No, per me non dobbiamo raggiungere qua perché scusa Il salvataggio? Ma guarda che noi siamo arrivati da qua E devi controllare qua dentro No, ma per me dobbiamo arrivare qua Ah, mi sa che c'era una piastrina qua, veramente C'era le piastrine queste qua, dici? Eh? Sono permesso E qua c'era il medico E qua c'è il medico C'è, è locato ma c'è il pulsante per sloccarlo, penso, eh Io farei un tentativo Vai E ce la vediamo davanti Questa qua è fatta un po' così Madonna Madonna, via che brutto L'inizio Eh, dietro Hanno da Lewin Manguri usa il teletrasporto, lui Tan 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 Ma che cazzo Ah beh, ma Ma... te ne vai fuori Ooh 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 Va a fare così tipo DOWN Vabbè, ma cosa sono quelle protuberanze che hai dietro la schiena, ma l'ho ancora capito Non l'ho ancora capito Un tipo di cordoni, un belico WTF Era un pene Ma... Dov'è? La davanti Ho perso la sanita mentale Ok, no, no, non è dietro la porta Cosa dici, rispondiamo? No Tan 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 Oh, ma pattuglia, eh Se tipo stai inginocchiato al buio non ti vede, secondo me In un angolino Non è scemo come il mostro di amnesia, penso, eh Sì, no, ma non credo Cioè, in alcuni video Non li cagava di striccio quando li passava in parte C'è paura No Stavo per partire, mi ha partito un bip sonico Ecco Ti ha sentito, ragazzo Boom No Polvere di merda Che cazzo Ce n'è andato Go, 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 go No, no, no Oh, cazzo Si inculata, è duro Qui Oddio Ma inizio 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 Qua 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 Sarebbero cos'è le le? Si Hai capito cosa devo fare? Item tool weapon di qua Anche di qua Item tool weapon potrebbe essere Una cosa dei progetti eh Eh si Eh ma cazzo Eh dovresti però ritornare di qua allora No io devo andare Sono sicuro che devo fare così Eh però adesso prova No il pulsante sul portone Ok Un po' Un po' Non vedremo 7, 6, 5 And per questo Non ho problema Allora Ok Ok Comunque vi sali dalla destra Si devo uscire in qui e poi Dritto? Ed dovrebbe essere la porta si boogie lo senti? si adesso che bello sto gioco è nascondino perché prima senti? non senti niente poi cominci no cominci tu 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 ok non troppo senti tom 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 e ti parte di infarto allora e adesso è dietro iscritti io offro un po' d'acqua perché qua i secoli ci mettiamo bevo io per voi due ore e mezzo non puoi fare così non puoi fare così mi hai fatto vedere di fatto mentre stavo bevendo l'entro dov'è l'entro dov'è l'entro dov'è sei stronzo cosa cazzo adesso vedi cosa cazzo di dentro sei stronzo eh ho sentito ho sentito l'uomo no niente ok no niente ok no niente tranquillo è solo che babbara di paese ma è vero ma potremmo mettere qua scipola faccanto scipola faccanto potremmo mettere qua magrebino magari lo distrae infatti non c'è un'esca tipo perché non puoi c'è un armandio che ci sta Godzilla non puoi craftare ovviamente l'arma Godzilla è un armandio ma è un armandio vedo di qua l'anien è un armandio è tutto incazzato ops fine del gioco gioco finito sai che è spoilerato guarda che bel culetto sexy che cazzo hai detto è stato girato è un complimento sono incazzato guarda che c'è c'è qua ah c'è il coso qua per acqua ooo cazzo cos'era il coso? devi ritornare a parlare nooo no 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 uso il citto bella ok ragazzi accaggio riuscito ciao ciao allora la situazione si complica ah eh si c'è ancora in giro daaaam appena la dorsi opena devi what the vaffanculo eh vedi che la butta giù la termaletta per adesso si infila di nuovo la testa nell'armadio mi sento della musica c'è qualcosa in questa stanza? no c'è una sedia è solo un nascondiglio puoi lasciartela si che puoi io credo in te ma lo sai cosa vuol dire che se rascio? vai in un piccolo cieco no vuol dire che se rascio mi trovo a queste qua eeeeeee brother ma mo strozzo gheiii gheiii ora ritorna ok non lo sento più però per me è davanti eh è andato dall'altra stanza eh no nella zona 2 di prima è andato mi sa cioè è andato di là per forza ma non è andato via dritto di là ma non è andato di qua così ma non è andato di qua così eh si è di là la zona 2 di prima no scusami se io riesco e vado di qui ah fighe vero cazzo beh you are leggermente foe però non lo sento scherzavo ok sentito damn nick ho mangiato pesante oggi ok 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 vai 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 go 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 Von the plataforma non posso baggermi dentro al gioco no! non lo c'è vai ne iit 4 Arios no cazzo c'è scritto scusa dove ARIUS ARIUS Sarà tipo... Ci farà di testo 1-7-0-2 1-7-0-2 In caso che crepo Ma che cazzo è che si muove? Cosa? Ah no è un personaggio che sta tremando Perché guarda Guarda quel coso la Sembra che si muove su e giù Questa qua si chiama Vision indotta Guarda! Non sto scherzando Corri CORRICOOOOOOOR Cosa ho bisogno di trovare? Cosa ho bisogno di trovare? Non lo so Non lo so Lo senti? No E' quello che mi preoccupa Perché ha 20 fps? Ma succede? Perché? Oh Bico 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 Ma che cazzo è questo un free break? Morley 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 Object upload Oh una sta... un cassonetto E' che... Ah mi sa che deve andare o di sopra o di qua No di sopra per forse Devi tornare indietro qua E' l'intelligante età nuovo ce l'hai già Non è che c'hai dei... dei puli Non do il framerate E' tutto E' chiuso Avevo sentito qualcosa Ma perchè il framerate è così basso? Però vorrei avviare un attimo frapp Cioè più... Scusate un secondo eh Allora ragazzi Siamo riusciti Dopo un'impresa da dire poco titanica Anche tagliuzzando un po' qualcosina Cioè... un paio di pezzi Siamo riusciti a... Investigare L'Alien per il momento sembra non essere... Waaah! Bico ci voglio giocare falculo Sem... L'Alien per il momento sembra non esserci Si scoprirà nel prossimo video quello che succederà Puoi cercare gli oggetti adesso Puoi guardare gli oggetti che tirano in più Ah... Eh ciao aspetta spera L'ho sentito ma... Vabbè... Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti